Antonio Moro, rinascita bassanese, lei è un commerciante? Commerciante sì, di Bassano, sempre lavorato a Bassano e Gappa, nato a Bassano. I commercianti gli piacciono essere liberi come tutti gli imprenditori, nel senso il modo di agire in maniera veloce? Veloce, chiara e precisa. Lei ha appoggiato la lista di Dario Bernardi, proprio perché ha reputato che in quella lista non c'erano invasioni politiche. Esatto, c'è una lista appoggiata da altre 5 liste insieme che praticamente non hanno partiti, nessuno viene da un movimento partito e nessuno ha voluto portare dentro queste liste partiti. Un simbolo di un partito, quindi siete l'espressione della gente normale. Gente libera, che quando decide, deve decidere di proprio, con la propria testa e non che venga suggerita da altri cosa bisogna fare. Perché proprio Dario Bernardi, vero, un'esperienza pluriennale? Perché Dario Bernardi abbiamo controllato il programma che aveva e aveva i nostri stessi obiettivi. L'obiettivo è di essere veloce, fare le cose e farle bene, soprattutto dire quello che fa, lo fa e basta. Nel senso non ha il fatto di... Non ha la burocrazia nel DNA. Esatto, dentro, che blocca quello che vuole fare. Noi è una persona esperta, noi appoggiamo una persona esperta, che siamo sicuri che il programma che ha presentato lo impegnerà proprio dall'inizio alla fine. Rispetterà ogni virgola del suo programma. Ogni virgola, sì. Beh, noi gli facciamo gli auguri. Grazie mille.